La provincia prepara il trasloco nell'ex Banca d'Italia. Rete scolastica penalizzate le autonomia dell'entroterra pesarese. Raccolto dei rifiuti il centro storico prepara la rivoluzione. Fra dieci giorni arriva a Mattarella i preparativi della capitale della cultura. Ribaltone WL esonerato Buscaglia panchina a Sacchetti. Ben ritrovati al nostro Rossini News. Oggi è mercoledì 10 gennaio. Apriamo questa edizione occupandoci della futura sede della provincia di Pesaro e Urbino. Oggi infatti l'amministrazione di Giuseppe Paolini ha convocato una conferenza stampa per fare chiarezza sulla futura destinazione d'uso dell'edificio di via Gramsci e confermare la volontà d'acquisto dello stabile dell'ex Banca d'Italia. Trattativa che potrebbe concretizzarsi già in questo inverno. Vediamo. Giuseppe Paolini interviene in conferenza stampa per smontare congetture emerse nelle ultime settimane sul futuro del palazzo della provincia e sulla futura destinazione dell'amministrazione. Che resterà in centro storico rinunciando il consumo di suolo ipotizzato per costruire una nuova sede su un terreno di proprietà provinciale a Villa Fastici, una provincia che ed è ben precisa su quel che sarà la destinazione d'uso dell'edificio di via Gramsci. Noi non abbiamo mai pensato di andare fuori dal centro storico, abbiamo dei problemi qui di ristrutturazione e dei problemi statici all'interno di questo palazzo, abbiamo trovato la possibilità di spostare la provincia da qui acquistando la sede della Banca d'Italia, abbiamo chiesto alla sovraintendenza quali erano i vincoli perché prima era prevista nel vecchio piano regolatore demolizione e ricostruzione, la sovraintendenza ha messo dei vincoli, ma sul palazzo nuovo, sul palazzo vecchio noi abbiamo sempre detto che avremmo spostato un liceo, molto probabilmente il Mamiani che è qui attaccato all'altro e avrebbe tenuto la provincia per sé l'uso e non avrebbe venduto la sala Adelebei e la sala Pierangeli. Per tutto il resto quello che ci vogliono fare, anche la proposta che ho sentito, che è uscita sui giornali, che il sindaco Matteo Ricci ha proposto di farci una sede universitaria, ben venga, ben venga, sarei contento, però noi siamo costretti di andare, di uscire da qua, di trovare un'altra soluzione per l'enorme spazio che abbiamo, per i costi enormi che abbiamo per il riscaldamento, che poi vuol dire anche risparmio energetico, per cui per noi la sede Idonia è proprio la sede della Banca d'Italia. Entro il 15 di febbraio avremo tutte le analisi che abbiamo richiesto su quel sito da parte della Politecnica delle Marche e dopodiché andremo, se ce la facciamo, a concludere e troveremo un accordo con la Banca d'Italia e inizieremo proprio i lavori per spostare da qui a 200 metri da qua, scusate tanto, in una zona che c'è via Rossini, mi dispiace abbandonare via Gramsci, però via Rossini non è una via secondaria di peso, con di fronte il mare io credo che la provincia abbia proprio una sede dignitosa e quello che faremo è andremo anche lì a cercare di fare una struttura ANZEP con costi energetici bassissimi. È un'operazione intelligente perché oggi siamo in una sede che è, come dicevo prima, sovradimensionata rispetto alle nostre esigenze perché sapete bene che la riforma delle province ha tolto numerose competenze ma anche dipendenti e personale, poi tra l'altro abbiamo avuto anche il blocco delle assunzioni per diversi anni e oggi siamo rimasti in tutto 210 dipendenti grossomodo e questa è una struttura che ha una dimensione di circa 8.000 metri quadri mentre invece a noi ce ne basterebbero 3.000-3.200, è chiaro che 8.000 metri quadri costano tanto per il riscaldamento, le pulizie, l'illuminazione e quindi dovevamo sicuramente intervenire e fare qualcosa. Tra l'altro l'edificio che vorremmo poi mettere in vendita ha grossi problemi di natura statica e sismica quindi richiederebbe degli interventi importanti. Quindi tutto nell'ottica di risparmiare, di spendere meno risorse per liberare anzi risorse nella parte corrente per poter svolgere meglio le nostre funzioni, quindi la manutenzione delle strade e soprattutto delle scuole. Un calcolo di risorse che avrebbe messo in conto oltre 15 milioni di interventi per un'eventuale ristrutturazione degli stabili di via Gramsci. L'ex sede della Banca d'Italia avrebbe invece dimensioni, geografia e pure cifre d'acquisto adatti alle esigenze dell'ente. Le cifre con la Banca d'Italia, loro ci hanno detto, quantomeno la direzione nazionale ha detto che non possono scendere sotto i 2 milioni e 8 per l'acquisto. Quindi noi cercheremo di trattare, di spuntare magari anche un prezzo migliore, dopodiché ci saranno degli interventi anche lì di miglioramento da un punto di vista sismico e statico, però abbiamo già fatto delle prime verifiche e gli interventi non sono così importanti come quelli che avremmo dovuto fare qui. L'edificio è molto solido anche da un punto di vista statico e sismico. Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, è intervenuto anche su un altro tema, cioè su quello della delibera della Regione Marche sul taglio delle autonomie scolastiche, ritenuta ingiustamente penalizzante per l'entroterra pesarese. Ha minacciato azioni legali il presidente della provincia di Peser Urbino, Giuseppe Paolini, dopo la delibera della programmazione della rete scolastica da parte della Regione Marche, che alla luce del decreto 1000 proroghe aveva potuto risparmiare sul taglio delle autonomie scolastiche passando da 19 a 16. Preservata qualche autonomia in più nelle altre province, non in quella pesarese che vede sacrificate quattro autonomie scolastiche costringendo a pagare il prezzo più salato a Macerata Feltra e Mercatino Conca che vedono loro malgrado la fusione dei rispettivi istituti comprensivi. Io ho lavorato sulle direttive che ha dato la Regione di tutelare le scuole in aree marginali dell'entroterra e di cercare di aggregare delle scuole che potevano essere vicine o che presentavano dei problemi. Abbiamo lavorato intensamente su questo, ho fatto incontri e incontri con tutti i sindaci dell'entroterra, prendendomi qualche rimprovero da qualcuno, però alla fine avendo capito il problema c'è stata una massima collaborazione. Poi è uscito fuori dal 1000 proroghe che sarebbe diminuito ed è stato portato da 19 a 16 nelle Marche la chiusura di alcune direzioni didattiche. Di questi noi avevamo proposto le nostre quattro andando proprio su quello che c'era stato chiesto e sono stati tolti, Macerata è passata da 9 a 6, Ancona da 3 a 2 mi sembra e a Pesaro sono rimasti 4, ma quello che mi dà fastidio è che hanno impedito di aggregare insieme il Cipia con l'Agrario, a Pesaro l'hanno impedito e invece hanno permesso a Scolipiceno e Fermo di farlo. Ma quello che mi dà fastidio, che mi fa veramente gridare e che sono andati anche contro una direttiva che avevano dato loro, che era quella di tutelare le scuole marginali, le scuole dell'entroterra. Siamo riusciti anche con il sindaco di Apecchio, con l'Avanna, con tutti i sindaci dell'entroterra a tutelare questa cosa qua, ma la provincia è entrata e qui entra la gamba tesa, è andata ad aggregare Mercatino Conca con Macerata Feltre, non terendo conto della zona svantaggiata che ha, una zona di confine, considerando che Mercatino Conca e il sindaco di Apecchio, ci siamo visti tante volte per parlare di questa cosa, una zona che ha subito anche una scissione perché alcuni paesi sono passati in Romagna, era la zona che doveva essere secondo me in quel momento ipertutelata. Invece no, non è interessato questo e hanno deciso questo. Ecco, questa è la cosa che secondo me mi fa male, mi fa male perché io sono un sindaco che viene dall'entroterra, un sindaco di un piccolo comune e come sempre la tutela nei confronti dei piccoli comuni a parole c'è sempre, a fatti non c'è quasi mai. Ed ora cambiamo argomento perché proprio in questi giorni nel centro storico di Pesaro si stanno installando decine di eco-isole intelligenti, cassonetti informatizzati che da inizio febbraio porteranno ad abbandonare definitivamente la raccolta differenziata porta a porta nel centro storico appunto pesarese. Assieme ai tecnici di Marchimo Multiservizi abbiamo esaminato oggi benefici e funzionamento di questa nuova procedura. Il grigio dell'indifferenziato, il marrone dell'organico, l'azzurro della carta, il giallo di plastica e lattina, il verde del vetro. Cinque colori per cinque contenitori di raccolta differenziata, le cosiddette eco-isole intelligenti che in questo inverno si moltiplicano dalle sei presenti in centro storico a Pesaro dallo scorso anno alle 23 che verranno completate in questo mese di gennaio. Lunedì 22 di gennaio infatti comincia il conferimento attraverso le eco-isole informatizzate in tutto il centro storico, due settimane di coesistenza con la raccolta differenziata porta a porta e poi dal 5 febbraio soltanto il conferimento in queste eco-isole informatizzate che hanno dato finora risultati assolutamente confortanti. Le isole saranno 23, si è ricorso alle isole per evitare l'abbandono dei sacchetti del porta a porta che a detta del comune era diventato troppo brutto dal punto di vista del decoro urbano per andare verso un sistema di raccolta che sia favorevole al cittadino che in qualsiasi ora della giornata può andare ed accedere all'isola ecologica informatizzata come quelle che si vedono nello sfondo dietro di me. Rispetto alle prime sei queste isole ecologiche hanno degli accorgimenti che faciliteranno l'accesso, non sarà più necessario toccare con le mani lo sportellino, ci sarà un'apertura a pedale e sono state allargate i fori, gli sportelli per il conferimento del rifiuto in maniera che sia il sacchetto della plastica che è quello più voluminoso e il cartone che spero venga comunque sempre ridotto perché altrimenti dovremmo andarci più volte al giorno, queste cose vengano fatte in continuazione sempre per un miglior decoro di Pesaro che come città della cultura 24 il decoro, l'attenzione, la pulizia sarà sempre ancora più maggiore degli anni appena passati. Con oggi ultimiamo l'installazione della sesta isola informatizzata, sesta dei 17, le installazioni verranno ultimate il giorno 18 di gennaio che sarà il primo giorno di consegna delle tessere presso la sede della circoscrizione centro Pesaro in via Gavardini. Le consegne delle tessere le faremo direttamente noi, saranno delle consegne subordinate alla presentazione della Tari, quindi dell'iscrizione, verranno consegnate alle 10 del mattino alle 19, gli ultimi tre giorni della prossima settimana e i primi due giorni della successiva, quindi 18, 19, 20, 22 e 23 gennaio. L'esperienza della sperimentazione cominciata allo scorso anno ha avuto una fisiologica fase di rodaggio che ci si aspetta anche in questo caso per poi entrare a regime con quello che è un sistema che dà benefici. Esatto, allora noi con l'esperimentazione che abbiamo fatto nell'altra parte del centro, a parte qualche persona che era scettica nel primo momento però è andato tutto liscio, e abbiamo un operatore che gira tutti i giorni e comunque sta andando bene e abbiamo un riscontro positivo dalla gente. Ci aspettiamo anche qua che comunque non sono sei, sono 23 isole, è un giro un po' più largo però ci aspettiamo comunque lo stesso riscontro perché sicuramente per la città è un miglioramento soprattutto dalla parte estetica e anche sicuramente nel fatto che ricicleremo di più anche come rifiuti. Ed ora passiamo alla cronaca ladri in azione nel quartiere pesarese di Villa San Martino, nella notte ignoti infatti hanno fatto irruzione alla scuola Don Milani di Via Toscanini rubando materiali tecnologici tra cui un tablet e forzando un distributore automatico appropriandosi dell'incasso. Episodio simile si era verificato pochi giorni prima alla scuola Manzoni, indagano i carabinieri. Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli della pulizia sulla vendita di petardi e fuochi d'artificio nella città di Pesaro. In particolare in un negozio sono state sequestrate ben 1800 confezioni di fuochi pirotecnici, materiali esplodenti che l'attività conservava in condizioni di scarsa sicurezza. Sanzionato anche un altro negozio di Pesaro che vendeva petardi singolarmente e non nelle confezioni originali contenenti le necessarie istruzioni d'utilizzo. Mancano dieci giorni alla cerimonia inaugurale di Pesaro capitale della cultura 2024. Come sapete sarà il 20 gennaio alla Vitre Frigo Arena in presenza di Sergio Mattarella. Allora proprio la Vitre Frigo Arena si avvicina davvero a un sold out per questo grandissimo evento. Fervono i preparativi per la inaugurazione istituzionale di Pesaro capitale della cultura 2024 alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Mancano infatti dieci giorni al maxievento la Vitre Frigo Arena che chiama alla donata alla città per il 20 gennaio con cerimonia inaugurale a partire dalle 11 di mattina. Mattarella manca una passerella di ospiti a confezionare un evento gratuito con tagliandi nominativi e obbligatori ancora disponibili sul circuito Viva Ticket alla biglietteria del teatro Rossini o al tipico tips di via Rossini. Ovviamente avere puntato ad avere il presidente della repubblica in un ambiente così grande con un'affluenza di pubblico sia delle scuole che di chi si sta iscrivendo talmente alta diciamo a livello organizzativo sta stressando molto la macchina infatti voglio ringraziare tutti quelli che a tutti i livelli ci stanno lavorando ma soprattutto anche chi da Pesaro, dalla provincia, dalla regione, dal resto d'Italia, anche dall'estero, tanti ambasciatori compresi hanno già richiesto e sono già prontati per arrivare, saremo sicuramente migliaia, il tetto massimo penso raggiungibile sarà di 8 mila, molto probabilmente lo raggiungeremo e ci sono alcuni spazi ancora per prontare, chiaramente per motivi di riempimento e di posti, noi li abbiamo messi tutti a disposizione subito, questa mattina si è aperta un'altra finestra per altri due settori, cercheremo giorno per giorno, rifare in modo che una piccola finestra pronotabile ci sia sempre, un equilibrio da creare anche per l'ospital delle scuole perché avremo almeno duemila studenti quindi insomma è tutto un equilibrio che stiamo cercando di creare ma sicuramente testimonia il fatto che il capo dello Stato innanzitutto è unito al messaggio forte della capitale italiana è veramente tanto atteso dal nostro territorio e oltre. Non solo l'evento mattutino, da pomeriggio a notte il 20 gennaio di Pesaro capitale della cultura 2024 diventa una lunga festa in musica, alle 17 la vitrifligorena ospiterà il concerto gratuito di Max Gazzè così come gratuitamente si ballerà dalle 20 con la performance dell'orchestra Casa Dei. Alle 23.30 si prosegue con Rosa Chemical e l'evento Once a Year a pagamento. Nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo mostrato la conferenza d'inizio anno dell'attività legislativa del Consiglio regionale organizzata dal suo presidente Dino Lattini. Conferenza che non è andata giù al vicepresidente del Consiglio Andrea Biancani intervenuto ai nostri microfoni a nome delle opposizioni escluse dal confronto. Sentiamolo. Ieri conferenza d'inizio anno delle Consiglie regionali su quanto avvenuto nel 2023 sulle prospettive per il 2024 assente Andrea Biancani, assente ma non consenziente a questa assenza. Devo dire che ieri il presidente Lattini del Consiglio regionale ha deciso di convocare questa conferenza stampa per dare i numeri di quello che è stato il lavoro fatto nel corso del 2023 in particolare e per anche parlare di quello che sarà l'attività del 2024. Devo dire che io ma che sono vicepresidente del Consiglio regionale ma anche la consigliera Vittri che è la consigliera segretaria ci siamo rimasti male nel senso che è stata una scorrettezza istituzionale, è stato sbagliato non coinvolgere anche chi rappresenta l'opposizione all'interno dell'ufficio di presidenza e quindi abbiamo voluto testimoniare questa nostra contrarietà. Noi in questi anni abbiamo sempre cercato di essere costruttivi, abbiamo fatto proposte a favore di quello che è l'interesse pubblico di tutti i cittadini e andare a fare questa presentazione dell'attività svolta senza coinvolgerci è completamente sbagliato. Do alcuni numeri che sono stati dati, non sono stati dati secondo me neanche i numeri in maniera precisa, nel senso che su 43 sedute del Consiglio regionale 27 sono le leggi che sono state approvate. Ovviamente dal nostro punto di vista sono poche, questo significa che ci sono tantissime leggi che purtroppo ancora sono ferme in commissione, parliamo di 126 proposte di legge ferme in commissione, una buona parte presentate dall'opposizione, noi invece vogliamo dire e ricordare che è importante che le commissioni licenzino, cioè facciano in modo che anche le proposte di legge presentate dall'opposizione possano arrivare in consiglio regionale, sono proposte costruttive, propositive e quindi tra i numeri andavano dati anche questi, un'opposizione che lavora, un'opposizione che ha presentato anche tantissime emozioni, attualmente oltre ad esserci 126 proposte di legge ferme ci sono anche 122 emozioni che non vengono discusse. Il problema è anche legato alla durata del consiglio regionale, purtroppo il consiglio regionale che viene fatto praticamente quasi ogni martedì incomincia verso le 11 del mattino e termina verso le 14.30-15, secondo noi deve durare di più anche per dare la possibilità di poter fare un dibattito più lungo e di poter anche discutere le tante emozioni che sono rimaste ferme. Quindi un errore da parte del Presidente, noi siamo comunque disponibili a collaborare ma riteniamo che il consiglio regionale debba durare di più per poter discutere tutte le norme, tutte le proposte che noi abbiamo fatto ma anche che le commissioni licenzino non solo le proposte di legge della maggioranza ma anche quelle dell'opposizione che sono molto spesso molto importanti nell'interesse pubblico. Ed ora chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con diverse notizie di sport. Partiamo con l'AVL che decide per il cambio d'allenatore. Le ultime sconfitte costano caro infatti a coach Maurizio Buscaglia che viene esonerato al suo posto, viene ingaggiato Romeo Sacchetti. Ieri l'ultimo allenamento di Maurizio Buscaglia, oggi l'insediamento di Romeo Sacchetti. Dopo 48 ore di riflessione l'AVL decide per il cambio di manico. Esonerato il coach barese che paga col prezzo più salato la sconfitta con Sassari. Proprio quella Sassari tanto cara Sacchetti che in terra sarda vinse il primo storico scudetto della società aggiungendovi pure due Coppa Italia e una Supercoppa. Buscaglia lascia dopo uno scorro di 5 vittorie, 10 sconfitte e un terzo ultimo posto in classifica spauracchio di una zona retrocessione alla quale ci si è avvicinati in maniera allarmante dopo un'altrettanto preoccupante involuzione di gioco e atteggiamento nelle diverse fasi di ogni partita. Sacchetti arriva a Pesaro a 70 anni con un curriculum da all of fame del basket italiano infiocchettato da 5 anni al comando della nazionale italiana. Ora dovrà rimettersi in gioco calandosi in una realtà completamente differente. Nuovo allenatore in campo ma anche nuova voce in capitolo sul tema di quei correttivi a roster che sembrano necessari ad invertire la rotta. Dal basket passiamo al calcio. La Vispesaro ha ufficializzato il centrocampista ex Serie A e Joel Obi, contratto biennale per il 32enne nigeriano che vanta 142 presenze in Serie A fra Inter, Torino, Chievo e Parma. Rinforzo importante per l'obiettivo salvezza dei biancorossi con Obi che già questa mattina ha svolto il suo primo allenamento al Benelli. Ed ora andiamo a vedere qual è la programmazione di Rossini TV per questa sera. Quando si parla di mercoledì si pensa a Megabox Vallefoglia e noi in ogni puntata conosciamo queste splendide atlete, splendide pallavoliste. Questa sera conosceremo Sara Panettoni che è libero Megabox Vallefoglia. Vi aspettiamo quindi alle 21.20 con questa nuova esclusiva puntata. E subito dopo invece vi andiamo a raccontare quello che è stato il presepe vivente e l'arrivo della Befana a Gabice Monte. E poi domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa. Mi raccomando 7 eventi puntuali. Saremo in diretta sul canale 80, sulla nostra pagina Facebook, in streaming sul nostro sito rossinitv.it oppure ci potrete vedere anche attraverso la nostra applicazione. Grazie come sempre per essere stati con noi. Vi auguro buona serata.